I read between the lines, I don't long for heaven, cause I don't believe in heaven, and I don't think that I need to be saved. Alfredo Manzo, Presidente e Amministratore Delegato di Ergo Italia, e si rinnova la partnership ormai consolidata da diversi anni con il Forum della Comunicazione. Siamo giunti alla quarta edizione, ma Ergo porta sempre delle novità e delle anteprime esclusive qui al Forum. Oggi che cosa ci porta? Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo presentato in occasione del Forum l'ultima applicazione, che è un sistema che sostanzialmente prevede un notebook dedicato esclusivamente alla scuola, è waterproof, quindi resistente all'acqua, è resistente anche agli urti fino a 70-80 cm e ha un sistema di protezione del disco rigido per aiutare gli studenti nello sviluppo, perché pensiamo che sia uno dei segmenti in maggiore fermento, anche considerando le esperienze negli altri paesi europei, e abbiamo visto che c'è una fortissima domanda di appliance per la scuola per poter fruire dei contenuti multimediali che ormai sono molto disponibili. Quindi il sistema prevede una serie di software fatti in collaborazione con delle realtà specializzate, l'hardware naturalmente e anche una lavagna luminosa, che è le famose LIM, che in questo momento è sempre più richiesta nell'ambito della scuola. Ieri mattina abbiamo fatto una prima conferenza su questo tema e devo dire che il feedback è stato decisamente molto importante, ricevendo tutta una serie di richieste per approfondire il tema. I tablet sono dei prodotti che in altri paesi stanno davvero facendo l'economia di questi paesi, quindi l'Italia anche sta cavalcando con Ergo quest'onda positiva, anche dal punto di vista del mercato? Assolutamente sì, tra l'altro il prodotto che noi abbiamo realizzato è un mix tra netbook e tablet, perché lo schermo ruota e diventa sostanzialmente un tablet, ha anche una pennina elettronica che consente il touch. Il tablet per noi è stata una scommessa importante, noi abbiamo cominciato a giugno dello scorso anno, devo dire che contrariamente ad alcuni trend abbiamo scelto Microsoft come partner per un posizionamento che noi abbiamo storico, noi lavoriamo molto con le grosse aziende, quindi con le corporate, con le enterprise, aziende che non hanno nessuna volontà in questo momento di investire in sistemi innovativi. stiamo lavorando con Microsoft con molta attenzione sul prodotto in attesa della versione 8 che è nativa touch. Sicuramente i tablet, oggi noi abbiamo una gamma che va dal 7 pollici al 12, è uno dei segmenti in fortissima crescita, in particolare mi piace anche raccontarvi l'esperienza che internamente abbiamo definito taxi driver, ovvero un 7 pollici per i tassisti e lo troverete in molti dei tassisti sul centro Italia, dove per la prima volta, oltre ai servizi standard dei taxi, quindi la prenotazione della chiamata, le risposte e così via, i tassisti non sono più soli perché vanno su Messenger, vanno su Skype, utilizzano tutti gli applicativi normali per poter ingannare il tempo nelle attese lunghe che hanno nei loro posteggi. Questo prodotto è stato dedicato, ed è anche qui su piattaforma Microsoft, è stato dedicato proprio ai tassisti perché ha uno stand dietro molto robusto che ne evita le vibrazioni nel momento in cui si è in movimento. Molto interessante anche il 10 pollici, la domanda, oltre allo standard più forte che è quello dello schermo grande, devo dire che è molto interessante anche per la versione con la tastiera incorporata, perché proprio i target a cui facciamo riferimento, quindi chi ha necessità di lavorare molto, di collegarsi in proxy col proprio server o così via, e lavorare con testi un pochino più impegnativi, ci chiedono ancora la tastiera, quindi in qualche modo abbiamo tirato fuori un ibrido che ha la tastiera e ha il touch come funzionalità. Quindi un'attenzione molto particolare di Ergo, sia ad un'offerta customizzata, personalizzata, per i singoli utenti, visto per i ragazzi, per i tassisti, ma è per gli uomini di business, gli uomini di affari che lo utilizzano. È comunque un'offerta che ha dei forti riscontri all'interno del nostro mercato, ma anche potenzialmente a livello globale, internazionale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Da un po' di tempo insistiamo su un concetto abbastanza noto, think global va bene, ma by local, perché sul territorio ci sono eccellenze importanti, ci sono eccellenze che sono in grado di leggere l'esigenza del territorio, e pensiamo che Ergo stia in qualche modo interpretando al meglio questo tipo di attività. È una delle attività a cui teniamo di più, i nostri prodotti sono assolutamente testati, hanno spesso, dobbiamo dare di più e costare di meno, come dire, siamo obbligati, non essendo una grande multinational, a dare di più a parità di prezzo se non a prezzo inferiore. Quindi è assolutamente nel filone che seguiamo da anni. Ricordo che Ergo ha 21 anni di attività, quindi è arrivata nella fase adulta, per cui riesce anche a imporre dei messaggi di questo tipo. Grazie mille. Grazie a voi.